Nella polemica sugli scontri a Pisa e Firenze entra a gamba tesa Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi-Sinistra Già, non poteva essere altrimenti. Dopo le accuse della sinistra alla polizia, dopo la nota di Sergio Mattarella e la replica di Matteo Piantedosi, ecco piombare Fratoianni In un'intervista a Repubblica, ecco che afferma, registro la facilità inquietante con cui, da quando è al governo la destra, si arriva alla repressione di piazza nel silenzio del Viminalee di Palazzo Chigi Già, colpa del governo. Della destra. Imbarba al fatto che i cortei dove si sono verificati gli scontri non erano autorizzati, imbarba alle provocazioni e alle violenze dei manifestanti e imbarba a tutti i precedenti quando al governo c'era la sinistra Nel mirino di Fratoianni ci finisce ovviamente il ministro dell'Interno, Piantedosi, bersaglio di interrogazioni parlamentari Le ha mai risposto? Le rare volte che Piantedosi lo ha fatto, le sue risposte sono state imbarazzanti Di fronte a comportamenti delle forze dell'ordine lontani anni luci dalle regole democratiche e dal buonsenso, ha risposto con forse un accesso di gelo Un comportamento che chi guida il Viminale non può permettersi. Attendo ancora molte risposte da Piantedosi Nel mirino di Fratoianni ci finisce ovviamente il ministro dell'Interno, Piantedosi, bersaglio di interrogazioni parlamentari Le ha mai risposto? Le rare volte che Piantedosi lo ha fatto, le sue risposte sono state imbarazzanti Di fronte a comportamenti delle forze dell'ordine lontani anni luci dalle regole democratiche e dal buonsenso, ha risposto con forse un accesso di gelo Un comportamento che chi guida il Viminale non può permettersi. Attendo ancora molte risposte da Piantedosi Grazie 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 Grazie